William Carotenuto, purtroppo solo un quarto posto in questa Coppa Italia, sicuramente vi rifarete in campionato. Sì, diciamo che questa era per fare le prove generali per il campionato, siamo partiti solo da dieci giorni, ci serviva per mettere benzina nelle gambe, per provare alcune cose. Tutto sommario è andato bene perché siamo arrivati nelle prime quattro d'Italia, ma adesso ci prepariamo per il campionato, per la Supercoppa che faremo a Catania contro il Milano. La sorpresa del torneo è stata il Villafranca, che impressione ti ha fatto oggi nella finalissima terzo-quarto posto? Sorpresa per chi non la conosce, ci sono svizzeri, ci sono argentini, chi conosce questo sport sa che il Villafranca ha tutti i giocatori molto 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 bravi, sono tutti nazionali, sono una buona squadra, secondo me arriveranno in fondo pure in campionato.